ciao esperti sono gianfranco e lavoro con microsoft come digital trainer e bentornati su microsoft expert zone italia il canale ufficiale dove potrete scoprire tutte le novità riguardanti i prodotti e i servizi microsoft e rieccoci all'appuntamento mensile di xbox on dove potrete scoprire tutte le novità legate al mondo xbox di questo mese febbraio è un mese ricco di record nostalgia e sorprese per xbox vi racconteremo di pall world di pocket fair il nuovo titolo da record debuttato al day one su game pass che ha scatenato l'entusiasmo dei videogiocatori riscopriremo il fascino dei classici in veste moderna come tomb raider 1 3 che vi permetterà di rivivere le iconiche avventure di lara croft navigheremo i pericolosi mari di skull and bones esploreremo l'ora nascosta tra un giorno e l'altro in persona 3 reload ora disponibile su game pass infine daremo uno sguardo alle ultime novità dal mondo xbox incluso l'aggiornamento di febbraio delle vostre console xbox e le innovative colorazioni vapor dei controller wireless per xbox non importa se preferite giocare sulle console di casa microsoft o con mouse e tastiera su pc expertzone è il posto giusto quindi iscrivetevi subito al canale per non perdervi mai più nessuna novità neanche una dal mondo di xbox ma siete pronti vediamo insieme tutte queste news xbox nel dettaglio pal world l'avventura open world di pocket pair che vi immerge in un mondo dove potrete catturare oltre 100 creature chiamate pals ha fatto centro sin dal suo debutto in accesso anticipato su game pass diventando un successo clamoroso in soli dieci giorni dal lancio più di 7 milioni di giocatori hanno esplorato questo universo rendendo pal world il lancio di terze parti più riuscito nella storia di game pass e il gioco di terze parti più giocato di sempre su xbox game pass via cloud ve lo siete perso dubito ma se così fosse recuperatelo ora su pc windows con pc game pass o su console xbox o via cloud con game pass ultimate microsoft flight simulator si arricchisce con entusiasmanti aggiunte al primo posto il world update 16 che vi trasporta nei caraibi offrendovi la possibilità di esplorare luoghi come antigua le bahamas barbados le isole caiman e altre destinazioni mozzafiato questo aggiornamento gratuito arriva con 104 punti di interesse 7 aeroporti dettagliatamente riprodotti e 9 nuove abilità per gli appassionati in attesa di dune parte 2 l'opportunità di pilotare un ornicottero e avventurarsi su arrakis si concretizza con l'espansione ufficiale dune in microsoft flight simulator disponibile ora senza costi aggiuntivi giocate ora a microsoft flight simulator su pc windows con pc game pass o su console xbox serie x os o via cloud con game pass ultimate l'aggiornamento di febbraio per le vostre console xbox serie x os e xbox one e ora in distribuzione graduale tra le novità troviamo la possibilità di usare i controlli touch durante la riproduzione in remoto nuove opzioni di ricalibrazione per le levette dei controller wireless xbox nuove opzioni di filtraggio e ordinamento dei giochi e molto altro ancora ma tranquilli vi racconteremo queste novità in modo approfondito in un video speciale dedicato quindi iscrivetevi per non perdervelo anche quest'anno il ces 2024 ha visto l'annuncio di tantissimi nuovi e potenti pc windows 11 per il gaming dai nostri partner tra cui acer asus rog dell hp lenovo e razer e anche un nuovo dispositivo portatile per il gaming da msi scopriteli tutti e in dettaglio dal link in descrizione vi presentiamo il nuovo controller wireless per xbox in edizione speciale dream vapor che sfoggia una tonalità rosa e viola diversa per ogni controller nella parte anteriore un'impugnatura in gomma con motivo a diamante nella parte posteriore e uno sfondo dinamico per le vostre console serie x os se invece amate la personalizzazione create ora il vostro controller unico e personale scegliendo tra i sei nuovi temi vapor esclusivi sul sito xbox design lab passiamo ora alle nuove uscite per pc e console xbox di febbraio siete pronti a vivere o rivivere le emozionanti avventure della trilogia originale di lara croft la collezione tomb raider 1 3 rimastered star in lara croft riporta in vita le prime tre epiche avventure di lara croft meticolosamente rinnovate per le console di ultima generazione incluse tutte le espansioni e i livelli segreti affrontate puzzle esplorate misteri e svelate i tesori nascosti nel mondo antico con la possibilità di alternare tra la grafica moderna giornata e quella poligonale classica per un tocco di dolce nostalgia tomb raider 1 3 è ora disponibile all'acquisto per console xbox one e xbox serie x os siete pronti a salpare nei pericolosi mari di skull and bones l'incredibile avventura piratesca gdr cooperativa d'azione di ubisoft vi porterà in mare aperto dove dovrete fare il vostro meglio per diventare il pirata più temuto di tutti i tempi combattete in epiche battaglie navali personalizzando i vostri vascelli e formando alleanze improbabili mettendo in gioco il tutto per tutto per conquistare il bottino più prezioso esplorate un mare senza legge affrontando mostri marini letali eventi atmosferici e onde anomale da soli o insieme a un massimo di altri due giocatori con cui condividere missioni e ricche ricompense skull and bones è ora disponibile all'acquisto per console xbox serie x os vestite i panni di uno studente travolto da un fatto inatteso mentre svelate i misteri dell'ora nascosta tra un giorno e l'altro persona 3 reload è una rivisitazione del gdr che ha ridefinito il genere rinato per l'era moderna immergetevi in un viaggio emozionante coinvolgente con scene e interazioni inedite e un nuovo doppiaggio mentre guidate la vostra squadra in battaglia contro misteriose entità soprannaturali persona 3 reload è ora disponibile per pc windows con pc game pass e per console xbox serie x os xbox one e in cloud con game pass ultimate vediamo invece insieme alcuni dei titoli aggiunti di recente al catalogo pc game pass e game pass ultimate gil valentine è tra i coraggiosi superstiti delle atrocità che hanno sconvolto raccon city per fermarla la ombrella è pronta a ricorrere alla sua arma segreta più temibile nemesis riscoprite il mitico resident evil 3 del 99 in questa splendida edizione rimasterizzata affrontando orde di zombie e altre creature raccapiccianti mentre cercate di sfuggire dall'implacabile nemesis resident evil 3 è ora disponibile per pc windows con pc game pass e per console xbox serie x os xbox one e via cloud con game pass ultimate in concomitanza con l'evento sportivo annuale più seguito negli stati uniti dedicato al football americano malden nfl 24 fa il suo ingresso trionfale su game pass grazie a yay play divertitevi a simulare i vostri incontri preferiti o ribaltare le dinamiche del gioco impersonando le vostre leggende del football americano in questo titolo caratterizzato da controlli sofisticati e da un realismo davvero coinvolgente e non perdete l'occasione di riscattare il pacchetto di benvenuto disponibile al primo accesso fino all'otto marzo 2024 madden nfl 24 è ora disponibile su game pass ultimate per console xbox one e xbox serie x os e su pc game pass per pc windows ovviamente abbiamo tantissimi altri titoli disponibili già adesso su pc game pass e game pass ultimate come bro tato tarnit boy rob's a bank formula 1 2023 assassins creed valhalla hell let loose e moltissimi altri trovate la lista completa dei titoli disponibili questo mese nella descrizione di questo video e non dimenticatevi di seguirci su instagram e facebook per sapere sempre quali titoli sono disponibili il giorno stesso nel catalogo di game pass e su tik tok e twitch per consigli rapidi e dirette interattive e divertenti esperti è tutto per questo mese e grazie ancora per averci seguito in questa rubrica vi invitiamo a iscrivervi al canale e a lasciarci un commento ed ovviamente ci vediamo ancora qui mese prossimo per un'altra incredibile raccolta di novità dal mondo xbox ciao sappiamo tutti cosa rende incredibile ogni console xbox serie x os prestazioni top di gamma caricamenti rapidissimi è una qualità grafica eccezionale ma se vi dicessi che ci sono alcune funzionalità nascoste nelle vostre console xbox altrettanto sbalorditive di cui davvero in pochi sono a conoscenza mi credereste ciao 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 ciao